Ben trovati con le notizie dal Consiglio regionale, commissioni al lavoro sul piano regionale di sviluppo, il documento che definisce obiettivi, strategie e politiche che la Regione si propone di realizzare il PRS andrà discusso in aula nella seduta del prossimo 26 giugno. Intanto il Consiglio regionale ha dato il via libera all'adozione della procedura d'urgenza del provvedimento che si propone di modificare la legge regionale sul mercato del lavoro. Finalmente dopo questi ultimi anni dove si pensava che la soluzione dei problemi potesse arrivare a passare attraverso l'abolizione delle province, ridiamo alle province la possibilità di gestire come si deve e di avere anche capacità di spese, i denari per farlo, i centri per l'impiego, sia alle province che alla città metropolitana. Le opportunità economiche di crescita che ruotano attorno al settore del turismo, se ne ha parlato a Villa Carlotta a Como nel corso di un convegno. Il punto con il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. Questa crisi economica ormai molto lunga che ovviamente si accinge e mi auguro a terminare ha portato allo sviluppo di un mercato molto importante che è quello turismo. Abbiamo capito, abbiamo scoperto che c'è questa realtà che è una realtà straordinaria che porta economia, che porta risorse, che porta lavoro e finalmente ci stiamo attrezzando anche da un punto di vista digitale e tecnologico per affrontare una sfida che è una sfida ovviamente globale. È chiaro che poi turismo è tutto, è innovazione digitale, capacità ovviamente di tutte le strutture di potersi adeguare alle moderne tecnologie ma è anche trasporti, viabilità, navigazione, visto che qui c'è il lago, il tema ad esempio della regionalizzazione della navigazione dei laghi è un tema che ovviamente da rappresentante e rappresentante del Consiglio regionale è certamente uno dei temi che è all'interno del discorso dell'autonomia delle maggiori competenze di regione Lombardia, qui non si tratta di competenze economiche ma di competenze gestionali. Fino al primo settembre ville e palazzi, parchi e giardini del FAI resteranno aperti dal tramonto fino a mezzanotte con una ricca rassegna di appuntamenti per tutta l'estate. In Lombardia potrete scegliere tra la palazzina Piani e Villa Necchi a Milano, Villa della Porta Bozzolo, Villa Panza e il Monastero di Torba in provincia di Varese, le Comasche, Villa del Balbianello e Fogazzaro. Tra gli eventi in programma aperitivi a bordo piscina, cene a lume di candela, concerti di musica classica e jazz e romantiche osservazioni astronomiche previste per la notte di San Lorenzo. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.